In questo videocorso realizzeremo una rosa antica in porcellana fredda Le rose antiche hanno una particolarità Esistono alcune rose antiche come la damascena, la gallica, la alba la multiflora e la muscosa Alcune hanno Per questo progetto ci ispireremo alla rosa damascena che ha fiori di colore rosa o rosso Alla prossima 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 Alla prossima